ragazzi scusate ma evidentemente non prendeva bene non so c'era qualche problema su instagram aspettiamo due secondi torno un pezzetto indietro così la riascoltiamo tutti quanti non vi preoccupate se si è sentita male a costo di ricominciarla da capo state tranquilli bene così è meglio 30 secondi che ci siete tutti e ricominciamo da capo non da capo insomma vi faccio un riassunto dall'inizio più veloce e poi continuiamo ad andare avanti dunque allora faccio un passetto indietro se si è sentita male perché non non riuscivo a seguirvi quando si sentiva bene quando si sentiva male quindi facciamo che facciamo riassunto di tutto quello che ci siamo detti dunque la diretta di oggi è incentrata sul come farsi strada nel settore immobiliare cosa intendo per settore immobiliare come vi ho detto il settore immobiliare è uno dei settori più famosi e più utilizzati nell'economia italiana dopo la crisi c'è stata una grossa regressione in questo settore però noi da una crisi da un problema dobbiamo cercare di trasformarla in un'occasione perché perché questo crisi questa difficoltà ci dà la possibilità di acquistare a prezzi stracciati e vendere a prezzi più bassi rispetto al prezzo di mercato quali sono i nostri obiettivi nel fare un'operazione immobiliare 1 massimizzare i profitti 2 minimizzare i rischi perché perché se meno investiamo meno rischiamo se l'operazione va male abbiamo investito 10 euro ne perdiamo 10 se ne abbiamo investiti mille abbiamo perso mille minimizzare l'esposizione con eventuali finanziatori quindi stesso discorso che facevamo prima se investiamo 10 e abbiamo preso mutuo per 10 abbiamo un'esposizione inferiore rispetto a un'esposizione più alta questo cosa significa che pagheremo anche meno interessi e quindi andiamo a massimizzare sempre di più i profitti la cosa più importante a mio parere è diminuire al massimo la durata dell'operazione perché perché diminuirla ci permetterà di 1 avere sempre liquidità che è anche il punto successivo 2 chiaramente guadagnare di più in meno tempo perché se io vi do 100 mila euro in un anno o vi do 100 mila euro in tre anni ovviamente non è la stessa cosa 3 di avere la possibilità di investire in un'altra operazione e in tre anni invece di farne una guadagnare 100 euro farne 3 e guadagnarne 200 300 come vi facevo l'esempio prima vi ho fatto vedere che facendo un'operazione dove di 200 mila euro investendo tutti i 200 mila euro andavamo a fare un 400 per cento che è tantissimo per carità ma nell'occasione nell'ipotesi b andavamo a investire sempre 200 mila euro prendevamo un mutuo per l'ottanta per cento un mettevamo la rimanenza di tasca nostra dopo 18 mesi chiudevamo l'operazione rimborsavamo il capitale alla banca non avevamo fatto il 400 per cento ma avevamo fatto l'ottocento il 2 mila per cento quindi avevamo guadagnato molto di più spendendo molto meno o meglio in valore assoluto avevamo guadagnato la stessa cifra ma è un conto che rischiavamo 40 mila euro un conto che ne avevamo rischiati 200 mila la domanda che mi avete fatto più di frequente in questa settimana è stata dove trovare le operazioni immobiliari simile a quelle che vi ho presentato io in questi giorni ovviamente non c'è una legge fissa dovete un po ingegnarvi no la maggior parte di voi che ha fatto è andata sul sito per trovare le aste ricordatevi una cosa va benissimo è sicuramente un'ottima possibilità però per fare un'asta bisogna avere il capitale perché ovviamente bisognerà pagare l'immobile vi svelo in segreto però è un'operazione molto rischiosa però il rischio fa parte dell'imprenditoria e ognuno è libero di rischiare con i propri soldi quando si fa un'asta immobiliare la maggior parte delle volte noi dobbiamo depositare il 10 per cento depositando questo 10 per cento poi abbiamo 60 giorni per poter pagare l'intero prezzo avete quindi 60 giorni o per trovare soldi o per vendere l'operazione quindi potreste magari guadagnare senza aver tirato fuori un centesimo semplicemente avendo preso l'operazione e girandola a qualcun altro le banche le banche sono piene di crediti su immobili sono piene di problemi con società problemi con persone problemi con gente che non ha pagato i mutui quindi le banche sono i vostri migliori luoghi dove cercare queste tipologie di operazioni altra possibilità società o persone in sofferenza l'altro giorno io ho fatto una brevissimo un bellissimo video che sta sulla instagram tv sulla possibilità che mi aveva dato la banca di fare la surroga dei mutui cosa significa se una persona una società una qualsiasi figura non paga il mutuo per qualche errata la banca ancora non si è messa in moto per togliergli l'immobile quindi noi cosa possiamo fare possiamo andare da questa persona da questa società e li risenti tu hai difficoltà benissimo la banca ti leva l'immobile e non ti dà un centesimo io mi metto al posto tuo e pago il mutuo al posto tuo moralmente parlando molti di voi mi hanno criticato per questo prodotto perché ovviamente tutta la parte di mutuo che hanno pagato queste persone l'hanno persa da una parte è vero però ragazzi noi non stiamo facendo beneficenza stiamo facendo profitti quindi chi non volesse approfittare di queste possibilità è libero di non farle noi siamo imprenditori siamo squali perché bisogna essere cattivi e bisogna essere squali e dobbiamo sfruttare tutte le possibilità che ci sono per poter fare soldi altra possibilità questa è una che dovete andare a cercare in giro proprietari di immobili o proprietari di piccoli palazzetti che hanno queste proprietà ma non hanno abbastanza soldi per poterli ristrutturare o per poterli convertire per poterli rendere da non so uffici a appartamenti allora voi cosa potete fare potete andare da queste persone e li potete dire io non ti pago l'immobile lo metti tu a disposizione io faccio i lavori lo trasformo converto ristrutturo eccetera e guadagno sulla vendita ovviamente voi mi risponderete sì ma noi non siamo costruttori ed è lì che dovete utilizzare l'ingegno perché basterà chiamare un costruttore di vostra fiducia o anche se non lo conoscete lo cercate trovate un costruttore avete il proprietario dell'immobile avete il costruttore cercate di fare non gli intermediari ma cercate di chiudere voi un contratto di permuta con il proprietario andate dal costruttore e vi fate lasciare o un appartamento in cambio dei soldi insomma poi ve la giocate voi con la trattativa quindi mi raccomando ragazzi utilizzate l'ingegno non c'è un sito dove ci sono le migliori operazioni dove se le trovate facilmente significa che tutti hanno accesso e se tutti hanno accesso non sono le operazioni migliori come le selezioniamo quindi a questo punto le operazioni migliori voglio fermarmi un secondo se qualcuno volesse farmi delle domande ma vedo che state ascoltando non mi state facendo domande quindi continuerei ad andare avanti quindi abbiamo capito un po tutto il concetto abbiamo capito cosa intendo per operazione immobiliare abbiamo capito cosa quali sono i nostri obiettivi quindi massimizzazione dei profitti minimizzare i rischi cercare di investire di tasca nostra il meno possibile perché meno investiamo meno rischiamo e meno abbiamo possibilità di perdere e abbiamo capito più o meno quali sono le migliori dove trovare le migliori operazioni sì i stracci possono essere il saldo e straccio è un modo non è un dove il saldo e straccio cosa è per chi non lo sapesse il saldo e straccio significa che una banca ha un credito di 300 mila euro nei confronti di lorenzo benissimo viene paolo e dice cara banca io mi prendo l'immobile di lorenzo ma invece di darti 300 ti do 200 subito questo sicuramente funziona però dovete avere soldi subito pronti io sto facendo il possibile per farvi fare operazioni tirando fuori meno soldi possibile perché è chiaro se parliamo di capitali importanti certo se io vi dico 2 milioni di euro sul conto facciamo operazioni immobiliari sì ne facciamo quante ne volete io sto cercando di dare a tutti voi senza farvi conti in tasca ma sto cercando di dare la possibilità a tutti voi di fare operazioni immobiliari avendo un capitale minore quindi sto dando per scontato che utilizziamo un capitale basso il saldo e straccio è sicuramente un'ottima possibilità per chi ha capitale immediato da investire torniamo al nostro alla nostra scaletta quali sono i criteri di selezione di un'operazione immobiliare questa è la parte più importante quindi mi raccomando prestate attenzione il sì esatto come sta scrivendo daniele il portale in cui sono tutte queste operazioni del portale della giustizia.it però tutti ci possono accedere che dove può accedere chiunque abbiamo concorrenze e quindi ovviamente il prezzo sale nelle operazioni che ho fatto io non le conosceva nessuno e quindi chiaramente mi sono potuto ho potuto fare delle operazioni importanti ho imparato da bardolla assolutamente no ho imparato facendo le cose quindi torniamo a noi il criterio di selezione di un'operazione immobiliare questa è la parte più importante state concentrate dunque per capire se un'operazione immobiliare è di nostra di nostro interesse cioè per quanto riguarda i miei consigli noi dobbiamo avere uno un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato al valore reale io acquisto solo con un valore iniziale massimo pari al 25 per cento del valore di vendita cioè se un immobile nello stato in cui sta scusate se un immobile ristrutturato eccetera eccetera vale 2000 euro al metro quadro io lo pago massimo 500 euro al metro quadro quindi io per me un'operazione è interessante solo ed esclusivamente se rispecchia il primo criterio cioè io lo pago massimo il 25 per cento del valore di mercato 2 assenza di numerosi immobili in vendita nelle immediate vicinanze ovviamente se ci sono nelle immediate vicinanze decine di appartamenti in vendita è ovvio che bisogna capire il motivo perché sono tutti in vendita e nessuno se li compra quindi cerchiamo di capire com'è il mercato in quella situazione altra cosa potrebbe essere invece l'opposto cioè numerosi immobili di nuova costruzione nelle immediate vicinanze questa è un po più rischiosa però seguite bene cosa intendo se nelle immediate vicinanze un costruttore sta costruendo tre palazzi no lui ovviamente avrà tanti appartamenti da vendere cosa succede però noi abbiamo comprato a un valore bassissimo che neanche il costo di costruzione siamo andati a ripagare perché noi abbiamo pagato il 25 per cento del valore massimo massimo 25 per cento cosa significa che se noi mettiamo i nostri immobili su se noi compriamo un immobile in una zona in cui il costruttore un costruttore sta costruendo tanti palazzi tanti appartamenti lui avrà un prezzo di vendita di 2000 euro benissimo non possiamo vendere a 1500 però perché noi non abbiamo un costo di costruzione che lui ha subito noi non abbiamo dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione che lui ha pagato noi non abbiamo pagato il terreno che lui ha pagato noi non abbiamo gli interessi le banche che ci stanno colfiato sul collo perché dobbiamo sbrigarci a vendere quindi in quel caso noi possiamo fare un'ottima vendita però voi mi chiederete scusa prima ci hai detto se ci sono tanti appartamenti in vendita non lo compriamo e adesso ci dici sì vi spiego perché perché se in una zona ci sono tante costruzioni nuove è evidente che hanno una zona in sviluppo in ampliamento e quindi se non è oggi è domani arriverà più gente arriveranno supermercati arriveranno urbanizzazioni quindi è una zona in sviluppo e quindi conviene valutare di acquistare altro criterio il quarto la previsione di chiusura dell'intera operazione per chiusura intendo dal giorno che compriamo al giorno che veniamo l'ultimo appartamento non deve superare mai 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 i 24 mesi se noi iniziamo a capire che questa operazione è difficile cerchiamo di evitare di farla ragazzi ovviamente non sto parlando di comprare 100 appartamenti o 200 appartamenti sto parlando di operazioni piccole 5 6 10 15 massimo 20 appartamenti perché è ovvio che se ne dobbiamo vendere 100 avremo bisogno di più tempo ma noi non stiamo facendo operazioni multimilionarie e quindi vogliamo rimanere sui 24 mesi ultimo possibilità di scappatoia tramite gli affitti cosa intendo se noi compriamo convertiamo ristrutturiamo e non riusciamo a vendere dobbiamo sapere che però riusciamo ad affittare quindi deve esserci il mercato per l'affitto anche in questo caso l'affitto noi valutiamo sempre anche la possibilità di affittare perché se noi abbiamo un capitale o abbiamo preso un mutuo e non ci pesa la rata perché abbiamo l'affitto nulla ci vieta nessuno ci vieta di tenerci l'immobile e lasciarlo a rendita in questo caso gli affitti non dovranno mai essere inferiori al 20 per cento qui però passiamo al passo successivo cioè quando è che un'operazione è sicuramente redditizia e quindi se rispetta i requisiti la dobbiamo sicuramente fare uno quando il prezzo di vendita cioè noi quando andiamo a vendere il prezzo a cui noi pensiamo di vendere ribassato del 30 per cento rispetto al prezzo di mercato ci fa guadagnare comunque il il profitto che noi c'eravamo pianificati quindi ribadisco il concetto se il prezzo di mercato è 2000 euro e noi lo ribassiamo del 30 per cento e quindi andiamo a vendere a 1400 euro al metro quadro comunque andiamo a guadagnare quello che ci siamo pianificati di guadagnare allora è un'operazione redditizia sicuramente redditizia 2 la richiesta di immobili in quella zona è abbastanza elevata per poter farvi chiudere l'operazione in 12 18 massimo 24 mesi altrimenti non andiamo a rispettare il requisito precedente 3 il valore degli affitti annuali vi permette eventualmente di avere un ritorno sul vostro investimento pari almeno al 20 per cento cosa significa che noi avendo un ritorno sull'investimento pari al 20 per cento in cinque anni ci siamo ripagati siamo rientrati del nostro capitale dal quinto anno in poi andiamo a guadagnare quindi se rispetta questi i requisiti precedenti quindi prezzo nettamente inferiore al valore reale 2 assenza di numerosi immobili o presenza di numerosi appartamenti di nuova costruzione nelle immediate vicinanze durata non superiore a 24 mesi e possibilità di scappatoia se rispetto a questi criteri allora noi la valutiamo quando è che però noi decidiamo di comprarla decidiamo di fare questa operazione quando il prezzo di vendita ribassato del 30 per cento ci permette di guadagnare ciò che noi volevamo guadagnare ciò che ci siamo pianificato 2 la richiesta di immobili in quella zona è abbastanza elevata da permetterci di chiudere l'operazione in massimo di 24 mesi 3 se anziché vendere decidiamo di affittare dobbiamo avere un ritorno sull'investimento pari almeno al 20 per cento a questo punto la l'operazione è sicuramente redditizia arriviamo quindi alla fine quindi abbiamo selezionato l'immobile rispetto ai criteri che ci siamo prefissati è un'operazione sicuramente redditizia però mi trovo nel famoso bivio qual è il nostro bivio non noi soldi non noi fondi che cosa devo fare vi do quattro alternative uno il proprietario mette l'immobile voi fate i lavori in permuta ma voi non siete costruttori e soprattutto voi non avete i soldi per fare i lavori in permuta cosa fate trovato un costruttore che li faccia al vostro posto e voi vi farete lasciare un immobile per la riuscita dell'operazione quindi non state facendo gli intermediari non state facendo gli agenti immobiliari che non guadagnano una mazza su la vendita voi state facendo gli immobiliaristi voi state facendo un'operazione immobiliare il fine praticamente lo stesso ma voi utilizzando l'insegno andrete a guadagnare molto di più 2 cedete il compromesso ok cioè voi fate il compromesso e questo funziona anche nelle aste o funziona anche tra privati voi fate un compromesso vi date 60 giorni 90 giorni il più tempo possibile per poterglielo pagare a quel punto andate a trovare chi ve lo compra a un prezzo più alto è impossibile no è possibilissimo perché nelle operazioni in cui nelle operazioni che vi ho fatto vedere io nei giorni precedenti che io avevo un 400 per cento 500 per cento il che significa che io vado a quadruplicare il mio investimento ci sarà sempre qualcuno che vi darà un 30 per cento in più un 50 per cento in più rispetto a quanto voi l'avete pagato perché comunque lui ci guadagnerà tantissimo ci guadagnerà invece il 400 il 300 ma vi ringrazierà per avergli ceduto l'operazione terza possibilità cedete una piccola percentuale della società che ha comprato l'operazione a un valore superiore cioè se voi avete 100 mila euro ve ne servono altri 100 potrete cedere magari il 30 per cento a 100 mila euro a qualcuno e quel qualcuno ve la comprerà ripeto perché voi sarete forti perché avrete comprato a un prezzo bassissimo che vi darà un profitto altissimo e chiunque vuole entrare se voi venite da me mi dite ho un'operazione che guadagno il 400 per cento ma non ho i soldi per poterla fare lorenzo mi dai tu 100 mila euro e te la fai anziché al 400 al 300 assolutamente sì venite portatemi le faccio tutte io leggo una domanda e poi vi spiego l'ultima le perizie del custode bisogna leggerle molto bene vabbè questo è chiaro le perizie ma noi le perizie ce le facciamo da soli siamo noi i nostri esperti non dobbiamo fidarci di quello che ci dice un custode che poi non è che fa il custode le perizie fa il perito non il custode luigi di genova invece dice se nei 60 giorni non riusciamo a trovare qualcuno a cui vendere allora nel caso delle aste se nei 60 giorni non vendiamo abbiamo perso il 10 per cento quindi vi ho detto è molto rischiosa nel caso tra privati se noi riusciamo a fare un compromesso senza dargli a conto non abbiamo perso niente e ci scusiamo diciamo scusa non c'è soldi arrivederci grazie daniele lorenzo sì che destiniamo gli immobili ad uso turistico per affitti di breve termine tipo airbnb le ristrutturazioni che effettuiamo per questi sono detraibili per l'ottanta per cento allora daniele questo è un argomento che tratteremo la prossima settimana sul turismo oggi facciamo solo operazioni immobiliari ad alto rendimento quindi rifaccio un passetto indietro abbiamo capito che abbiamo selezionato l'immobile abbiamo capito che rispetta i criteri che avevamo stabilito abbiamo capito che è sicuramente redditizia ma non abbiamo i fondi quindi o il proprietario mette l'immobile e noi cerchiamo chi fa i lavori facendoci lasciare un appartamento appartamento soldi però insomma cercate di ingegnarvi per non diventare agenti immobiliari non perché io disprezzi gli agenti immobiliari ma semplicemente perché hanno talmente tanto gli passano talmente tanti soldi e ne vedono talmente tanti pochi sotto le loro tasche che basterebbe utilizzare un po di ingegno per guadagnare molto di più o fate una cessione di compromesso quindi voi fate un compromesso e lo vendete a qualcuno nel tempo che lo dovete che vi siete presi per poterlo pagare qual è l'alternativa a tutto questo il crowfunding ossia mettete i soldi da parte investite sulla mia piattaforma di real estate che sarà pronta a fine anno come funziona ve lo spiego semplicemente non perché io voglia farmi pubblicità ma perché sto entrando in un settore che vi farà guadagnare tantissimi soldi a tutti quanti e li farà guadagnare a me insieme a voi perché il crowfunding che cosa fa io metterò fate conto che io metto una mia operazione immobiliare sulla piattaforma io do la possibilità a tutti voi anche con 100 euro di avere i miei stessi guadagni che significa che se io avessi messo la mia operazione dove andavo a guadagnare il 400 per cento io guadagnavo su 200 mila euro il 400 per cento ma se pietro simone daniele tutti quelli che mi stanno seguendo nella diretta se anche voi avevate 1000 euro 2000 euro 5000 euro 100 euro voi pure guadagnavate il 400 per cento su questa su questa operazione ecco perché io sto facendo questa cosa per dare la possibilità a tutti quanti voi di rischiare il meno possibile e di guadagnare il più possibile leggo qualche domanda i soldi allora che cosa mi state scrivendo dunque vi state scatenando allora se apro mutuo posso affittare ad un locatario ripagare l'immobile con l'affitto certo se tu prendi nel momento in cui tu prendi un immobile o lo paghi col mutuo lo paghi in contanti o lo paghi con leasing o lo paghi con le cambiali l'immobile è tuo tu ci fai quello che vuoi lo vuoi affittare lo affitti non è un problema è l'operazione più semplice prendo il mutuo pago mille lo affitto a mille si ripaga l'immobile si ripaga solo però ragazzi io non faccio queste operazioni non vi sto consigliando di comprare un appartamento e affittarlo alla stessa cifra del mutuo io vi sto dicendo di fare operazioni ad alto rendimento noi affittiamo solo ed esclusivamente se l'affitto è pari al 20 per cento del costo a cui l'abbiamo pagato il che significa ve lo spiego semplicemente se noi paghiamo un immobile 200.000 euro per immobile intendo una serie di appartamenti tipo io io ho comprato una palazzina di 1300 metri e faccio 14 appartamenti se io con l'affitto di questi 14 appartamenti ci faccio una cifra pari a 40.000 euro l'anno io ho pagato 200 faccio 40.000 euro l'anno è il 20 per cento sì quindi l'operazione è buona cosa significa in cinque anni 40.000 euro l'anno io mi sono ripagato l'investimento allora sì ma se io devo fare un mutuo pago pago mille euro per trent'anni e prendo l'affitto mille euro per trent'anni io non ci ho guadagnato niente fra trent'anni mi ritrovo l'immobile mica tanto perché se qualcuno poi se ne va non mi paga l'affitto ho problemi pago le tasse gli interessi non ci ho guadagnato granché quindi mi raccomando ascoltate bene quello che io vi dico simone sono un agente immobiliare nonostante ho guadagnato a cinque cifre alcuni mesi in effetti ne vedo passare molti di più mi stai facendo riflettere cosa mi consigli allora ti sto spiegando no no non ce l'ho con gli agenti immobiliari ma se tu fai una vendita di un milione di euro no tu quanto guadagni l'uno per cento due per cento se hai un'agenzia se sei un venditore un collaboratore o un un agente dell'agenzia stessa guadagni le briciole e se invece quell'operazione te la fossi fatta tu ovviamente ragazzi io non sto dicendo che vendete un appartamento io sto facendo operazioni più complesse io vi sto spiegando come attraverso un'operazione immobiliare potete guadagnare centinaia di migliaia di euro io facendovi l'esempio di prima che mettiamo 40.000 euro e paghiamo 18 mesi di rate significa che noi con 64.300 euro in 18 mesi ci mettevamo in tasca 800.000 euro non spicci 800.000 euro e tutti voi lo potete fare ovviamente c'è chi ha i 40.000 euro lo può fare chi non è 40.000 euro ma ne ha mille mille e cinque duemila ovviamente non può fare operazioni immobiliari così importanti ed è per questo che a tutti quelli darò la possibilità di investire sulle mie operazioni con i miei rendimenti che rispecchiano tutti i criteri che vi ho evidenziato in questa diretta a quel punto potrete avere i miei stessi guadagni adesso ragazzi io penso di avervi detto tutto spero che sia stata una diretta interessante mi scuso per i problemi che abbiamo avuto all'inizio stiamo provando un servizio nuovo per darvi la possibilità di vederla in maniera più interattiva ma non è semplice utilizzare instagram perché sta cambiando un po tutti gli algoritmi quindi mi scuso per il problema spero che sia stata una buona diretta sì non vi preoccupate la diretta la salvo oltretutto da oggi siamo online anche con il canale youtube e su facebook quindi poi dopo vi metterò i vari link nelle storie successive mi potete rivedere sia su youtube sia su facebook così abbiamo la possibilità di interagire su più social ragazzi io vi voglio dire l'ultima cosa come vi sto dimostrando questa settimana potete guadagnare tanti soldi con un piccolo capitale dovete usare la testa ma soprattutto pensate diversamente rispetto alla massa non la pensate come tutti non entrate nella corsa del topo questa corsa del topo è vero se no mi dite l'hai presa da un altro libro sì la corsa del topo l'ho presa da un altro libro però è una costante cos'è la corsa del topo se voi iniziate a lavorare per uno stipendio di 1200 1300 euro non ne uscite più usate la testa pensatela in maniera diversa e soprattutto se volete un consiglio non lo chiedete a chi ha fatto meno di voi chiedetelo a chi ha fatto più di voi non lo chiedete a un professore il professore ve lo sa solo spiegare perché l'ha letto sul libro io l'ho fatto realmente io ho sono un imprenditore ecco perché faccio i corsi l'ultima cosa e poi vi lascio perché dovreste venire al mio corso uno perché non avete idee io sto riscontrando che c'è una grandissima carenza di idee non avete idea di come fare i soldi questa è la cosa che mi preoccupa di più questo veramente mi preoccupa tantissimo perché il fatto che non avete idee mi dà veramente una sicuramente mi dà una speranza perché sono sicuro che facendovi incontrare tutti insieme al corso l'idea di uno l'idea di un altro crea network e vi sviluppare un qualcosa secondo motivo per cui dovreste venire dovete venire perché vi do tutte le competenze per creare un'attività vi do le competenze per andare a chiedere i fondi vi spiego quali sono i settori migliori in cui investire ma non investire milioni di euro investire qualche spiccio investire mille duemila tremila euro per creare e per darvi la possibilità di fare centinaia di migliaia di euro è chiaro ragazzi dovete avere costanza dovete avere pazienza perché non è che da oggi al domani si fanno centinaia di migliaia di euro ma se voi ci credete se voi puntate in alto sicuramente il risultato arriverà non ricordatevi l'ho detto già anche l'altra volta non è tanto importante la mancanza di capitale l'importante la cosa più preoccupante è la mancanza di idee se avete un'idea che funziona il capitale arriva il corso ci sarà il 14 dicembre a milano troverete il link tra le mie storie o sulla mia bio mi raccomando iscrivetevi numerosi vi mando un bacio a tutti vi saluto e vi ringrazio per la diretta buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata